Grazie. Vi mostro soltanto un'immagine questa sera perché a me è particolarmente cara. Un'immagine del gennaio del 1961 e l'insediamento di John Fitzgerald Kennedy come presidente degli Stati Uniti. Lui volle che dietro alla sua auto per arrivare alla Casa Bianca ci fosse il batiscafo Trieste. Allora a questo punto Trieste non è che abbia delle grandi scuse per non riuscire a fare qualcosa di locale che ha un valore internazionale e soprattutto ricordo che se non tutte la maggior parte delle istituzioni che sono le eccellenze della città che vadano più o meno in tutti i settori sono legati a quella che è la storia dell'economia del porto di Trieste e della sua storia legata al mare. Si è parlato mi ricordo in fasi iniziali se chiamarlo museo del mare, museo della città ma insomma in fondo sono la stessa cosa perché oggi io conosco chiaramente il mio settore che è quello nautico-marittimo ma se penso a tutte le grandi realtà che sono note a livello mondiale che hanno reso noto Trieste in tutto il mondo sono tutte in qualche modo collegate insomma delle realtà che le rendono delle eccellenze mondiali e poi insomma abbiamo parlato bene stasera di Saipem e quindi anche di altre eccellenze che meno sono conosciute però insomma è inutile dire che se Fincantieri ha sede a Trieste piuttosto che se qua siamo il più grande costruttore di motori diesel marini e stiamo anche facendo un enorme sforzo di ricerca per la nuova generazione in tal senso è perché abbiamo una storia che è iniziata agli albori della rivoluzione industriale e quindi tutti questi legami che hanno reso poi una Trieste una città cosmopolita con degli enormi legami con le varie comunità deve essere assolutamente valorizzato. Non sto neanche a commentare, cioè darei per scontato che il museo non sia un oggetto che racconti semplicemente la storia del passato ma semmai faccia uno sforzo forse anche di partire in alcuni percorsi al contrario cioè partendo proprio dal presente anche perché quando se voi immaginate di coinvolgere, beh da un lato c'è un discorso di risorse umane necessarie sia per la realizzazione, il comitato scientifico certo ma bisogna anche pensare secondo me un po' più in là cioè quindi alla gestione del museo come un catalizzatore, un riferimento culturale di tutte le realtà della produttività triestina, dell'industria, della scuola, della formazione eccetera. Quindi un luogo in cui tutte le istituzioni di eccellenza che soprattutto sono legate ai giovani di oggi possano prendere in mano e sentire come loro questo luogo perché altrimenti come troppi esempi che abbiamo attorno sarà destinato a naufragare e a morire. Quindi è anche importante capire che cosa si vuole. Cioè io appunto non c'è una linea guida ancora definita però sentite le ipotesi più strampalate che non so che origine abbiano quindi non sto a citarle però tutta una serie di come dire proposte anche impegnative dal punto di vista del personale, delle cose che si vogliono fare eccetera. Poi essendo molto molto pragmatico sono... ha fatto tutto... vivono di vita propria i microfoni di questa sala e volendo essere molto molto pragmatici cioè io credo anche che il tempo si parla, correggimi Laura, di un'apertura per il 2026 questo è quello che si ipotizza e mi si dice beh in fondo c'è tanto tempo davanti ma guardate che non è affatto così perché allora parlando appunto del Trieste no? Dico cioè in America ci hanno fatto un museo riescono a vendere biglietti e vanno solo a visitare quello. In un museo del mare io la butto lì è una proposta molto personale l'ho già detto molte volte ma ci vedrei ad esempio è solo una pedina no? Visto che discorsi straordinari e inquadramento generale l'hanno già fatto i miei amici e correlatori. immaginare ad esempio come nel museo della NASA a Houston che uno possa salire a bordo del battiscafo Trieste, immagino i ragazzi e immaginarsi un percorso di esplorazione dei fondali quindi parlare anche di quello che si fa a livello di ricerca scientifica collegandosi quindi con il parco di Miramare con insomma gli altri studi di natura biologica e marina eccetera. I centri di ricerca le istituzioni vanno coinvolte quindi insomma le eccellenze dei lavoratori di ricerca che ci invidiano sono fondamentali e c'è bisogno di un loro contributo, di un loro apporto dove raccontino che cosa fanno e per quale motivo sono arrivati poi a Trieste perché Trieste è stata nei secoli un enorme collettore di imprenditori della mente direi quindi non solo mercanti che chiaramente hanno avuto il loro ruolo fondamentale quindi c'è io un ruolo di un comitato scientifico lo vedrei indispensabile, urgente tra virgolette perché ripeto se si immagina di fare una ricostruzione del Trieste piuttosto che un modello della Novara ok possiamo dire non ci interessa perché tanto c'è già a Vienna però se volessimo forse raccordare anche adeguatamente il discorso del museo naturale e quindi dei reperti che sono stati portati attraverso queste spedizioni però ecco il modello della Novara per farlo ci vogliono 4 anni cioè tanto per essere chiari non è un problema di soldi, vediamo presente che capitano sono occasioni non rare, uniche direi nella storia italiana che ci siano non mi ricordo quanti anche lì ho sentito di tutto, insomma direi sufficienti fondi per realizzare un museo che rappresenti il futuro della città che diventi un'eccellenza come tutto il resto perché come diceva giustamente Zeno D'Agostino se Trieste vuole porsi come eccellenza di ricerca di tecnologie, di scienze, di arte eccetera non può farlo se poi a livello culturale non è in grado di farlo e ripeto Trieste è un vantaggio enorme che l'elica di Russell, il primo piroscafo condiviso con i napoletani a vapore per parlare di nuovo di argomenti che io conosco la grande iniziativa del container che insomma di cui abbiamo parlato perché l'anniversario era recente hanno tutte una potenzialità di eccellenza a livello mondiale cioè io mi sono trovato alle volte a fare da consulente nella realizzazione di musei dove il problema più grosso è che avevano costruito, non cito nomi perché 5 pescherecci e 3 rimorchiatori però sono riusciti a fare comunque dei musei più che dignitosi ma dovendo pescare evidentemente da altre realtà ed essere più generalisti ecco noi, anch'io propongo la stessa cosa, un comitato scientifico con tante sfaccettature e idee diverse ma proprio per evitare di fare qualcosa di generalista di cui non abbiamo bisogno grazie